PICCHIA DURO, PICCHIA IN FREDTA Ci vediamo solo per le missioni, Kaisa. Che fine ha fatto, amiche per sempre? Akali, so che sono stata... Oh, yeah! Paura. Noi lottiamo insieme, sempre. Non temere di ascoltare. Questa ragazzina... Paura. Armoniosamente proteggerò i miei amici. No, no... No, no! Grazie a tutti.